La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. L'artegoria è consulenza, il premio è studio professionale dell'anno consulenza fiscale, il premio va a studio Gulli. Un bel applauso. Eccoli che arriva la questione, fatela dal fondo perché è il nostro amico che vedete. Fatela tutta, godetevela tutta la passerella. Andiamo con la motivazione intanto. Sì, la motivazione. Per operare nell'ambito delle consulenze fiscali offrendo un servizio tempestivo e puntuale per l'ampia preparazione e l'aggiornamento costante a livello nazionale e internazionale. Eccoli qui, eccoli qui. Anche per loro la foto di rito sempre un po' più avanti, guardate. La prossima volta mettiamo una scia luminosa. La mascherina la potete togliere per la foto, perfetto. Ok. Complimenti e buon proseguimento di serata. Siamo in compagna della dottoressa Tina Gulli, fondatrice dello studio Gulli. Benvenuta, dottoressa. Grazie, buona. Dottoressa, questa sera il suo studio ha ottenuto un importante riconoscimento nel settore della consulenza fiscale. Ecco, come commenta questa vittoria? Ecco, innanzitutto volevo ringraziare di questo secondo riconoscimento che mi onora e mi sprona sempre a fare meglio. Quindi ringrazio di cuore per questo riconoscimento. E poi, per quanto riguarda la consulenza fiscale, mi sprona a fare sempre meglio. Essere riconosciuta per la seconda volta sulla consulenza fiscale mi riempie di gioia, eccetera. Anche se devo dire che dovrebbe essere la normalità quello di fare un'ottima consulenza, di dare dei dati, di aiutare il contribuente. Cioè è una cosa normale per chiunque. Cioè ricevere questa onorificenza mi sembra una cosa che per me è una cosa di normalità. Cioè io lo faccio normalmente questa, di fare una consulenza in un certo tipo. Ecco, la vostra realtà opera in ambito internazionale e banta anche numerosi casi di successo e aiuta anche i giovani professionisti e imprenditori a realizzare un po' i loro sogni. Ecco, volevo sapere da lei quindi un po' qual è il vostro approccio e in che modo riuscite a fare questo? Allora, il mio approccio è stato sempre di spromnare i giovani a mettersi in gioco. Cioè non devono al primo ostacolo lasciarsi andare. Cioè devono assolutamente andare avanti nonostante le vicissitudini che ci sono state. Cioè i tempi sono stati difficili ma loro devono continuare a mettersi in gioco e fare in modo che i loro sogni diventino realtà. Perché non è facile, lo sappiamo bene. Però la curiosità forma parte dell'uomo, il reinventarsi giorno dopo giorno, anche perché non bisogna rimanere fermi, bisogna reinventarsi giorno dopo giorno e affrontare nuove sfide, nuovi ostacoli e così man mano ci riesci. Cioè non ti devi fossilizzare in un punto ma andare avanti e fare sempre meglio. E così la tua curiosità, la tua voglia di cambiare viene soddisfatta e loro si sentono felici nel senso che fanno una cosa nuova che li appaga. Non è solo per la fama o per i soldi ma è qualcosa che li fa felici. Ecco, quindi quando si spostano in un altro paese con cose nuove eccetera è una sfida che per il giovane è qualcosa che lo appaga. E questo ha avuto parecchi casi di giovani che hanno avuto dei grandi successi anche se si sono spostati in un altro territorio, un'altra cultura, un altro modo di fare perché si sono reinventati, si sono reinventati e hanno avuto, cioè bisogna avere il coraggio di reinventarsi. Questo è il segreto, specialmente adesso che cambiano le cose continuamente il mondo, la globalizzazione, un continuo cambiamento. Ecco, guardando un po' al futuro, quali sono i vostri progetti e obiettivi? Allora, adesso noi abbiamo raggiunto una certa stabilità perché anche noi ci siamo dovuti reinventare, reinventare continuamente perché i tempi erano difficili, sono cambiati rispetto a quello che era una volta, quello di dare una consulenza appropriata. Ci siamo dovuti reinventare, aiutare in questi tempi difficili a ogni azienda, a ogni cliente che avevamo a spronarlo nonostante si sentisse abbattuto per tutte le problematiche che avevano. Quindi continuare ad essere dei consulenti aziendali, ad essere degli amici per i nostri clienti e consigliarli al meglio per poter uscire dalle loro vicissitudini, dalle loro croci, diciamo e così farle vedere un mondo che cambia, però non vuol dire che cambiando sia peggiore, ma che migliora a secondo la loro voglia di fare, la loro voglia di mettersi in gioco. Quindi noi siamo più che altro dei confessori, degli amici dei nostri clienti. Questo è il nostro compito.